Ripetiamo? Allora, attenzione perché dovete scriverlo anche qua nei commenti, e la parola è barga, barga, e un'altra parola, questa è un po' più lunga, la faremo già due volte. E' collegata a barga, più o meno. Ok, comincio. Ok, finito. Adesso la ripeto un'altra volta. Ok, a quante lettere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se non sbaglio, è capacissimo di sbagliare. Ok, quindi ricomincio. Qualche idea? Lanterna. Lanterna. Perché dovrebbe sentare con la barga? Perché c'erano le barchette con le vantare? No, ok. Spettiamo più o meno, c'entra. Ok, facciamo l'ultima parola. Poi facciamo un attimino di tipo grattini così. E poi vi scrivo la buonanotte, perché vedendo questo video insomma era un po' più lungo. No, facciamo un po' più lungo. Una cosa molto semplice. Faccio malissimo al collo. Un po' più lungo. Ok, allora. Terza, terza, terza parola. Ok. Comincio. Di nuovo. Hai già qualche idea? No. Mi concetto. Ok. Il primo è per rilassamento, il secondo è per il gioco. Ok. Ok. Qualche idea? E' sicuro che mi serve, estetista? Sì. Allora, c'è una mona che ti serve. No, mi serve. E, ok. Questa è un'altra. Metti le gambe in crociotermia. Oh, così va benissimo. Ok, adesso, ultima parola. Non c'è qualcosa che era l'ultimo, questo era l'ultimo. Vediamo, vediamo, vediamo. Seconda parola un po'. Un gatto. Ok. Comincio. Ce la farò sempre due volte. Ok. E' una cosa che io amo moltissimo. E' una cosa che io amo moltissimo. E' una cosa che io amo moltissimo. Quag IPI That. Ok.